Assolutamente importantissimo e fondamentale perché i prodotti IGP a marchio dopo IGP hanno dietro tutta una storicità, un legame fortissimo con il territorio e sicuramente hanno un valore aggiunto. Noi utilizziamo sempre materie prime, sicuramente i nostri ingredienti sono degli ingredienti semplici ma sempre di qualità e seguiamo assolutamente un disciplinare molto rigido e quindi non possiamo sgarrare. Quindi quello che noi diamo al nostro consumatore finale è sicuramente un prodotto di qualità ancorato alla tradizione e al territorio. Allora è sicuramente un momento molto importante, io sono molto onorata di avere l'opportunità qui questa sera di inaugurare proprio all'interno del mio ristorante questo evento Sapore in Paradiso che ha proprio il sapore della convivialità, del ritorno in presenza. Ci ricordiamo le nostre riunioni sempre dietro dei monitor, finalmente invece siamo stasera qui riuniti a poter parlare, discutere, assaggiare, vedere, soprattutto vedere perché poi voi vedrete lo show cooking della nostra focaccia di Recco e dei salumi piacentini. Grazie.